Una runa di protezione pagata con sangue. Un torto è stato riparato per dare pace ai defunti. Ti sei dimostrato all'altezza, Eivor. Ho fatto il possibile per completare i preparativi. Ora aspetta gli dèi giudicare, e al fatto decidere. Ogni cosa si allinea. La visione si fa più nitida. Ora è nitida. Una runa di protezione impressa sulla casa lunga. La pace, restituita ai morti. E le getti, pronti alla caccia. Credo tu sia meno folle di quanto vuoi dare a vedere, ma devo deluderti. Non ci sarà nessuna caccia. Tu credi? Potenti forze stanno convergendo. Non siamo ancora usciti dai boschi. Gli dèi sono adirati. Non dubiterò mai più di te, zio. Abbiamo sbagliato qualcosa. Ma cosa sta succedendo? La caccia selvaggia. Ascoltate tutti. La caccia selvaggia non verrà per noi oggi. Come fai a saperlo? Perché ho visto il coraggio e l'abilità delle nostre genti. Ci siamo uniti, Norreni e Sassoni insieme, per affrontare grandi sfide. E perché so bene quanto la forza di un popolo derivi dall'unione e quanto gli dèi la rispettino! Gli dèi sono con noi. Gli dèi sono con noi.